Buon sabato, eccoci ben ritrovati, questo è l'appuntamento numero 7 della rubrica dedicata privacy e protezione dei dati personali. Ogni settimana notizie dall'Italia e dal mondo. Devo dire che questa settimana non è stata proprio una settimana ricca di news, c'è stato poco, la settimana scorsa è stata un attimino più intensa, vi ricordate abbiamo parlato ancora di intelligenza artificiale, poi abbiamo commentato l'ultima newsletter dell'autorità garante e abbiamo approfondito il tema lavoratori, monitoraggio a distanza, quindi c'erano state delle cosine più interessanti. Questa settimana è meno ricca, ma non per questo meno interessante, ho comunque raccolto alcune notizie che ho trovato curiose, quindi voglio portarle qui sul canale per approfondirle insieme a voi, ma prima di partire le solite informazioni di servizio perché sono sempre molto utili. Vi ricordo che qualsiasi documento che vedete pubblicato durante queste dirette, infografiche, commenti e quant'altro, lo trovate sempre all'interno della community, del forum della community di Omnivis. Quindi vi collegate alla community, cercate il topic della rubrica del giorno, della settimana, sono numerate da 1, adesso siamo arrivati allo numero 7, quindi oggi troverete rubrica numero 7, entrate dentro e lì trovate il link al video, le risorse pubblicate e avete la possibilità, io ve lo ricordo sempre perché lo sfruttate poco, ma mi raccomando, potenziate questo strumento, avete la possibilità di scrivere, di fare commenti, fare commenti, osservazioni, porre quesiti, quindi c'è una possibilità di interagire anche direttamente con il docente. Quindi utilizzate, utilizzate, utilizzate la community e il forum di Omnivis. Vi invito poi, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi alla community di gladiatori digitali, che è la mia community dedicata alle sfide dell'innovazione. Ormai avrete imparato a conoscermi, sapete che io ho il pallino della tecnologia, sono appassionatissima di tecnologia, quindi oltre ovviamente ad occuparmi nel mio lavoro quotidianamente di privacy e protezione dei dati, sto ampliando sempre di più la consulenza verso i temi come l'intelligenza artificiale, soprattutto. Nella community, che voglio farvela vedere in diretta, così avete anche modo di avere una preview se non siete iscritti, eccola qua la mia community. Tutte le settimane, solitamente la domenica, ma poi ci saranno delle sorprese perché andrò ad intensificare le uscite, pubblichiamo, pubblico delle newsletter con degli approfondimenti o le rubriche che escono poi sul canale Omnivis, oppure altri video interessanti che potete trovare anche sul mio canale, Avvocato Giovanna Panucci. In particolare ci sono due video, uno dei quali ha avuto un enorme successo, non me lo aspettavo, devo dire la verità. Ti spiego l'AI Act con ChatGBT, se ve lo siete perso recuperatevelo, perché ho dimostrato di fatto che l'intelligenza artificiale non è un qualcosa al quale approcciarsi con paura, con diffidenza. Tutto al contrario, bisogna curiosare, bisogna sperimentare, perché la sperimentazione è quello che ci salverà nel futuro prossimo. Quindi l'intelligenza artificiale è uno strumento pazzesco, favoloso. Guardatevi il video perché qui vi farò vedere come utilizzarla per commentare, per studiare un testo legislativo. Nel secondo video che è uscito invece la settimana scorsa, vi spiego un po' tutta l'impalcatura di ChatGBT, che cos'è, com'è fatto e delle chicche interessanti per tutelare la vostra privacy. Perché voi sapete che tutte le volte che su un software online, eccetera, fate un input di dato, tutti quei dati vanno a finire in contesti differenti. Quindi ci sono degli escamotage, delle impostazioni, per poter minimizzare il rischio di diffusione di quei dati. Quindi potete avere un po' di controllo in più. Nel video vi mostro come fare. Quindi iscrivetevi al canale perché uscirà prossimamente un'altra cosa molto interessante, ma non vi voglio svelare niente perché vi lascio un po' di sorpresa, un po' di suspense. Fra l'altro, volevo dirvi anche un'altra cosa, ci saranno delle novità interessanti, guardate un po' qui. Questa è la tazza dei gladiatori digitali, che è un tributo che io ho voluto dare così alla community, proprio perché vi dicevo, siamo diventati ormai in poche settimane quasi 300 iscritti. Un risultato incredibile. Io ringrazio sempre tutti per la fiducia e vi dico anche che per una questione anche di rispetto e tributo verso tutti coloro che hanno creduto fin da subito nel progetto, la community sarà totalmente open, quindi potrete iscrivervi gratuitamente fino a fine mese. Dopodiché ci saranno due canali, gli abbonati premium, quindi se volete dare un contributo ulteriore al progetto avrete possibilità di accedere a delle aree riservate dove troverete corsi, tutorial, video che non escono sul mio canale ma che riservo soltanto agli abbonati premium e via dicendo. Per tutti gli altri rimarrà la fruizione ordinaria, però ecco se avete piacere di seguirmi, seguirci in questo percorso vi consiglio l'iscrizione in ogni caso per l'aggiornamento su questi temi. Bando alle ciance perché vi mostro adesso come al solito il mio feedlay della settimana, feedlay pubblico, quindi con questo link che vi metto sempre nella community voi trovate tutta la mia dashboard e avete la possibilità di andare a spulciare nei siti che io stessa vado a visitare durante questo mio brainstorming informativo settimanale. Questa settimana ho voluto selezionare un provvedimento che adesso vi metto subito a video, che è il provvedimento dell'8 febbraio 2024 perché ci sarà utile oggi, eccolo qui, per fare un focus e un approfondimento sui diritti privacy, spesso, spesso, spesso confusi con altri diritti, soprattutto il diritto di accesso civico generalizzato e il diritto di accesso documentale di cui alla legge 241. Chi lavora nel pubblico questi diritti li conosce fin troppo bene. Sempre nelle risorse vi lascerò questa infografica per il ripasso. Vi ho messo un po' le cose più importanti da ricordare, da sapere quando si parla di diritti dell'interessato ai sensi del regolamento europeo ovviamente. I diritti quali sono? Eccoli, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità, il diritto di proporre il reclamo e sono quegli articoli che quando ricevete le informative o quando andate a scrivere voi stessi le informative per i vostri clienti andate a indicare nella parte finale dell'informativa come i diritti di cui agli articoli 15 e 22 del GDPR. Vi mostro, facciamo la prova del 9, prendo così in diretta, non lo avevo previsto ma voglio farvelo vedere, eccolo, sappiate che io tutte le volte che leggo una notizia ovviamente in ambito privacy tengo sotto mano il regolamento, me lo sono salvato nei miei preferiti, clicco ed ecco che ce l'ho a portata di mano. Capo 3, diritto, diritti degli interessati. Abituatevi a leggere le norme, mi raccomando, ve lo dico sempre. Allora, e qui c'è l'elenco, vedete? L'articolo 15, diritto di accesso dell'interessato, c'è il diritto alla rettifica, cancellazione, quindi dal 15 al 22 li trovate tutti. Quindi adesso lo andremo a vedere così approfondiamo oggi soprattutto il diritto di accesso. Quindi mi raccomando a non confondersi. Due cose fondamentali da portarvi a casa subito dopo la visione di questo video. Vedetela in questa maniera qua, per semplificare. L'accesso documentale, oltre ovviamente ad una diversa fonte legislativa, perché siamo nella 2.41 del 1990, soprattutto articolo 22, è, se vogliamo, un controllo sul documento. Quindi il cittadino, l'istante che propone quel tipo di accesso, vuol vedere la carta, vuol vedere il documento, lo vuole analizzare, ha bisogno di leggerlo, perché ha un interesse diretto, concreto e attuale su una determinata, diciamo, porzione di attività, sul suo interesse legittimo, diritto soggettivo. Quindi questo è lo scopo. Il diritto di accesso civico generalizzato, che come sappiamo ha ampliato un po' la possibilità del cittadino di andare a vedere che cosa combina la pubblica amministrazione, no? In virtù di trasparenza, buon andamento e quant'altro. È un diritto, diciamo, che come razio di base ha proprio la possibilità di verificare come si sta comportando l'amministrazione. Quindi il focus non è tanto sul documento, sulla sua utilità, ma sul fatto che l'amministrazione si stia comportando bene, secondo le norme, secondo le leggi, secondo tutto quello che conosciamo bene che riguarda questo settore. Il diritto di accesso privacy, soprattutto il diritto di accesso ex articolo 15 ai dati personali, è un diritto che ha per progetto i dati. Quindi io non voglio accedere al documento perché mi interessa la sostanza del documento, né tantomeno mi interessa il buon andamento, la trasparenza della pubblica amministrazione. Mi interessa sapere quali dati personali miei tu, titolare, stai trattando. Perché probabilmente lo voglio sapere, voglio cancellarmi, voglio oppormi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tenete a mente queste differenze perché sono importanti. Sulla base di questo piccolo diciamo refresh sui diritti privacy, vediamo il provvedimento di oggi. Allora parte tutto da un reclamo. Il signor X presenta un reclamo il 3 luglio 2020 nei confronti di una società, adesso il nome ci interessa relativamente, e dice, rappresenta di aver formulato in data 3 luglio 2020, scusate, il reclamo è del 6 ottobre 2020, mentre in data 3 luglio 2020 presenta, fa esercizio di diritto di accesso, un'istanza ai sensi dell'articolo 15 del regolamento con riferimento al trattamento dei propri dati personali raccolti dalla società in occasione della stipola di un contratto commerciale. La richiesta regolarmente notificata via PEC da parte del signor X alla società non veniva riscontrata nei termini previsti dall'articolo 12 paragrafo 3 del regolamento. Andiamo a guardare cosa dice questo articolo, così facciamo un brainstorming in diretta. Articolo 12, eccolo qui, paragrafo 3, eccolo qua. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguarda una richiesta ai sensi di articoli, vedete, 15 e 22, senza giustificato ritardo in primis e comunque al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Quindi il titolare del trattamento ha un mese per rispondere all'interessato. Questo termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità della richiesta. Il titolare deve informare l'interessato di questa proroga e dei motivi del ritardo, in ogni caso entro un mese. Quindi l'interessato esercita un diritto, quindi scrive al titolare via PEC, via mail, esercitando un diritto. Il titolare a quel punto che cosa può fare? Deve rispondere in ogni caso entro un mese, dicendo, perfetto, questa è la risposta alla tua richiesta, questi sono i tuoi dati, nel caso di cui è l'articolo 15, quindi se l'interessato chiede un accesso ai dati personali. Diversamente, se ha bisogno di più tempo, in ogni caso entro un mese, deve informare di questa necessità, dicendo, gentile interessato, stiamo elaborando la richiesta e entro due mesi avremo modo di rispondere alla tua istanza. Quindi vedremo che questo punto è molto, è un punto chiave nel provvedimento perché è quello che viene criticato proprio alla società. E infatti, infatti, che cosa succede? Alla luce di quanto rappresentato, l'ufficio del garante notifica alla società l'avvio del procedimento sanzionatorio. La società quindi inizia una serie di, tutta una serie di scambio di scritti difensivi, quindi si va a instaurare quello che in gergo viene chiamato un vero e proprio contraddittorio, io ti faccio un'opposizione e tu mi rispondi difendendoti. E la società che cosa dice? Si è trattato di un mero errore amministrativo dovuto alle difficoltà organizzative sofferte a causa dell'emergenza pandemica in corso. Infatti, l'esercizio veniva fatto il 6 ottobre 2020, l'anno che, ricordiamo tutti come l'anno della pandemia e quindi, scusate, luglio 2020, mi confondo fra le due date, l'anno della pandemia. Quindi la società dice, beh, vuoi perché era un momento particolare, vuoi perché per l'errore umano il mio dipendente non ci ha guardato, ammettiamo questo errore. L'esito dell'istruttoria che cosa porta? Il garante osserva una violazione dell'articolo 15 perché di fatto l'interessato non ha avuto una risposta entro i 30 giorni e quindi non ha ottenuto accesso ai suoi dati personali. Una violazione dell'articolo 12, quindi anche nei tempi il titolare del trattamento ha violato la norma non rispettando la risposta, quindi senza giustificato ritardo, non ha giustificato in maniera oggettiva le ragioni del ritardo. In più dice, la società ha indicato quale principale motivo dell'inottemperanza all'errore materiale in cui sarebbe in corsa e, lo mette fra parentesi, generiche difficoltà di tipo organizzativo. A riguardo si evidenzia come tale argomentazione non può essere assunta quale valido motivo di esclusione della responsabilità, non solo per la genericità della dichiarazione, che non è supportata da elementi idonei, ma anche per il carattere omissivo della condotta. Infatti subito dopo dice, lesimente della buona fede, perché la società si giustifica fra le tante cose dicendo, beh, ma noi eravamo in buona fede, perché non sapevamo che era arrivata quella comunicazione piena pandemia, quindi un errore materiale. Il garante dice, attenzione, perché lesimente della buona fede, cioè la scusa della buona fede, la tolleranza della presenza della buona fede, non ricorre sempre, ma ci deve essere un elemento positivo, cioè ci deve essere comunque un comportamento attivo della persona che sta commettendo l'errore. Cioè io sono convinto di comportarmi secondo la legge, quindi in maniera corretta e ne sono straconvinto, ovviamente questo a livello giuridico si deve provare. In questo caso l'autorità dice, c'è stato proprio un carattere omissivo, cioè non è stato tanto un fare ma fare male perché ero convinto di fare bene, ma c'è stato proprio un non fare. Non hanno controllato la PEC, non hanno risposto alla richiesta dell'interessato e quindi lo stesso non ha ottenuto l'accesso ai dati personali. Alla fine, in questo quadratino qui, c'è uno specchietto che riporta un po' il modus ragionandi dell'autorità e che ci può servire anche per capire che cosa tiene in considerazione il garante quando va a quantificare la sanzione. Vedete, con riguardo alla natura, la gravità e la durata della violazione è stata considerata rilevante la natura della violazione perché ha riguardato disposizioni relative all'esercizio dei diritti degli interessati. La gravità che ha portato poi alla sanzione da 5.000 euro per la società è stata proprio, diciamo, resa ancora più forte dal fatto che oggetto della violazione c'è un diritto dell'interessato, cosa a cui l'autorità tiene tantissimo. Gli articoli di quelli 15 e 22 del GDPR sono importantissimi, quindi della serie sull'interessato non possiamo chiudere un occhio, no? La tutela dell'interessato è al centro. Come per le AI Act, vi ricordate, ne abbiamo parlato, c'è una visione verticalmente antropocentrica. Il regolamento GDPR nasce non tanto per la tutela dei dati, ma per la tutela dei dati della persona fisica, quindi la persona è al centro. Poi cosa guardano ancora? La circostanza che la violazione si è protratta per un lungo periodo di tempo, circa dieci mesi, quindi mancata totale risposta, e il riscontro fornito è stato solo parziale e fra l'altro dato solo dopo la presentazione di un reclamo e quindi dopo che il grant aveva fatto un toc toc alla società. Tengono in considerazione eventuali precedenti violazioni pertinenti, e qui la società non ne aveva commesso, e tengono in considerazione il grado di cooperazione. Quindi come ti comporti tu titolare dopo che io ti ho fatto notare che hai fatto un errore? Sei proattivo, sei collaborativo, oppure un noi non abbiamo colpa, non centriamo nulla e fine della partita? Anche questo è molto importante. Quindi la sanzione, come vi dicevo, sanzione pecuniaria di 5.000 euro, che devo dire anche abbastanza alta, per questa attività, ingiunzione e pubblicazione di questo provvedimento online, infatti lo trovate al numero 999 6588. Ve lo metto comunque nelle fonti a disposizione sul forum. Quindi, primo provvedimento che ci è servito un po' per ripassare. Dal punto di vista della cyber security, invece, voglio portare alla vostra attenzione questa notizia, ahimè, molto grave. Sono stati rubati miliardi di cookie nel mondo. Fra i stati derubati, al diciannovesimo posto della lista che è stata stilata, c'è purtroppo l'Italia. C'è i cookies rubati da Brasile, India, Stati Uniti, Messico e quant'altro. Degli hacker hanno rubato i cookie e probabilmente ne faranno usi illeciti. Quindi, è una notizia che, purtroppo, quando arrivano queste notizie possiamo fare ben poco, se non ricordarci di stare attenti, quando navighiamo online, a quello che andiamo ad accettare gli ok, i consensi e quant'altro. Giusto per chiarire che cosa sono i cookies, per chi non lo sapesse, dovete, potete immaginarveli come delle piccole microspie, dei microchip che vanno ad attaccarsi metaforicamente a voi quando visitate un sito. Ci sono dei cookies che sono innocui, che servono semplicemente per consentire al sito di funzionare bene, quindi di scorrere correttamente, di essere impaginato, allineato, di non cresciare, si dice in gergo, quindi di mantenersi online, e sono i cookies tecnici, cioè quelli che tecnicamente sono funzionali alla corretta messa online del sito. Ce ne sono altri, come per esempio i cookie di profilazione, che sono un pochino più pericolosi, perché vanno a memorizzare dati personali importanti, come ad esempio lo username e la password dei nostri account. Per esempio, per farvi capire, quando ci colleghiamo su Amazon, prendo Amazon perché lo conosciamo tutti, se ci avete fatto caso, se voi lo consultate di frequente, quindi fate acquisti frequenti, tutte le volte che entrate su Amazon, non vi chiede sempre di mettere username e password, siete già online. Quell'attività viene consentita proprio dai cookies, quindi è un'attività che da un lato ci agevola, perché immaginate di dover tutte le volte entrare, mettere la password, mettere l'username, poi ve lo dimenticate, la sbagliate, quindi è scocciante come attività. Dall'altro però, quella conservazione di dato comporta questo, che se poi quei dati vengono rubati, quei cookie vengono rubati, potenzialmente quelle credenziali, quelle password potrebbero essere utilizzate per anche accedere ad altri account, soprattutto se siete un po', come dire, dimenticoni e tendete, come fanno in molti, ad utilizzare un'unica password per più account, cosa che se mi seguite, lo dico sempre anche nei corsi, è sbagliata, perché poi se capitano cose come queste vi trovate in difficoltà. Se avete un sito e volete metterlo a posto lato cookies, perché nel 2022 sono state pubblicate le linee guida del garante su come avere a norma un sito dal punto di vista della cookie law, vi consiglio di leggere questo articolo di Cyber Security 360, che ho trovato molto interessante, perché vi spiega i passi da fare per mettere il sito a posto. E alla fine trovate anche degli schemi interessanti, delle infografiche, vedete, cookie tecnici sempre permessi, perché come vi dicevo prima, consentono al sito di funzionare. Al primo accesso, quindi appena la persona si collega al sito, sono gli unici cookies che possono funzionare. Tutti gli altri devono essere sottoposti a consenso e a informativa, ed è quel pop-up, quel bannerino tipo questo, che adesso non c'entra niente però per farvi capire, che viene fuori e che ci dice guarda che questo sito utilizza determinati cookies, ok? Sui cookies c'è un mondo, magari sarà l'occasione di dedicare una diretta a parte, anzi, se vi interessa approfondire questo tema o altri temi, sotto il video di YouTube scrivetemi, datemi degli input e ve ne parlo nelle varie dirette. Quindi questo sito comunque ve lo segnalo come lettura, così, guida parallela per poter approfondire questi temi. Vi racconto poi questa bella iniziativa, che arriva sempre da Casa Garante, è partito, anzi partirà la prossima settimana, mi pare che la prima giornata sia proprio l'11 di aprile, giovedì 11 aprile ore 17, parte che cosa? Il Privacy Tour 2024. Il pulmino dell'autorità garante, voi sapete che il garante ogni anno sviluppa queste iniziative molto interessanti che hanno un grande impatto sociale e soprattutto etico, dove si prende un tema centrale in ambito data protection e lo si porta un po' in giro o si fanno dei tavoli tecnici, come avevano fatto lo scorso anno con l'approfondimento fatto a Pietrarsa, vi ricordate, erano stati aperti tantissimi tavoli tecnici, c'era il tavolo dei DPO, c'era il tavolo del Legal Design, c'era il tavolo dell'intelligenza artificiale e lì i maggiori esperti, consulenti e curiosi, si, dicevo, mettevano attorno a questi tavoli per chiacchierare su questi temi, proporre delle iniziative e portare in giro queste tematiche, di cui è importante parlare per rimanere aggiornati. Quest'anno l'iniziativa si chiama proprio Privacy Tour 2024, qui trovate anche il link con tutta la descrizione, ma la cosa interessante che ho trovato veramente proprio metaforica, ma in senso bello, è che la partenza sarà presso la stazione centrale di Messina, con tutta la simbologia che vi è dietro del concetto del viaggio, dell'attività di compliance, che deve essere un'attività di monitoraggio, di continuo monitoring, evoluzione, percorso, cammino, c'è di tutto dietro questa simbologia. E poi, venerdì 12 aprile invece, si terrà una riunione, sempre con tutti i componenti dell'autorità, esperti e quant'altro, presso la sede dell'Università degli Studi di Messina. E anche qui, io credo che quando si vede unire formazione, didattica, scuole, università a questi temi, beh, abbiamo fatto bingo, perché vuol dire che veramente il messaggio è arrivato forte chiaro, lo trovo veramente, veramente molto simbolico ed è una bella iniziativa. Leggetevi tutta la notizia, perché merita assolutamente conoscere anche questa tipologia di attività che vengono fatte, che non è la mera sanzione, il garante ha sanzionato il soggetto, l'ente, eccetera, ma sono iniziative più, vi dicevo, a sfondo di sapore etico, no? Culturale e sociale. L'ultima cosa che vi voglio ricordare, e qui torniamo in ambito intelligenza artificiale, CiaGBT apre all'uso senza account. Allora, seguite quel video che vi ho fatto vedere prima sul mio canale, vi spiego CiaGBT con un occhio privacy, perché vi faccio vedere, lì dicevo, per poterlo utilizzare bisogna essere iscritti sul sito di OpenAI, quindi mettere uno username, una password, oppure loggarsi con i social, con Google, comunque avere un account. Ebbene, una notizia di qualche giorno fa, CiaGBT apre all'uso senza account, quindi sarà possibile utilizzare CiaGBT anche senza avere l'iscrizione. Perché lo fanno? Ovviamente, soprattutto per una questione di incentivazione delle persone ad utilizzare l'intelligenza artificiale. Quindi è sicuramente un sintomo di grande e grossa apertura da parte di OpenAI, che avrebbe tutto l'interesse a avere delle informazioni come una mail, uno username di una persona, anche soltanto per aggiornamenti, email, fare statistiche di usabilità e quant'altro, e invece rinunciano a questo per garantire e consentire a tutti di utilizzare l'intelligenza artificiale. CiaGBT, per chi non sapesse che cos'è, ve lo voglio far vedere, entro un attimo nel mio account, eccolo qua, CiaGBT è un chatbot, una chat, quindi è un modello di intelligenza artificiale che è in grado di, da un input di testo, un prompt, che io vado a scrivere qua dentro, renderci un output testuale, a seconda che io utilizzi la versione di CiaGBT 3.5, oppure visivo, quindi anche immagini, se utilizzo la versione con 4. Vedete che c'è da lì che è l'intelligenza artificiale che è in grado di generare da testo immagini. Quindi sappiate che da qualche giorno potete utilizzarlo anche senza iscrizione, e quindi assolutamente io approfitterei di questa cosa, perché lo dico sempre, curiosate, utilizzate l'intelligenza artificiale, e non abbiatene paura, un po' perché non c'è da averne paura, un po' perché è l'unico modo per non essere sopraffatti da questi strumenti, qual è? Conoscerli. Quindi mi raccomando, utilizzateli, curiosate, sperimentate, e vedrete che l'impatto sarà sicuramente molto molto più basso. Ok? Bene, per oggi è tutto, anche per oggi è tutto. Seguitemi allora in community, sul canale di Gladiatori Digitali, sul mio canale YouTube, perché prossimamente ci saranno delle novità in uscita, cose veramente molto interessanti, soprattutto in ambito didattica, quindi come supporto allo studio. Noi ci rivediamo la prossima settimana, la rubrica viene pubblicata di sabato, più o meno sabato pomeriggio, quindi vi rimando ai canali per ogni informazione di sorta. Vi ringrazio per essere stati qui con me oggi e ci rivediamo il prossimo sabato. Buon fine settimana. Ciao a tutti.